Giorgio vuoi vincere 50 euro? Sì babbo, devo rientrare il salvatanaio! Abbiamo 12 bastoncini che formano il numero 99 Facendo solo due mosse, quindi spostando solo due bastoncini mi dovrai fare il numero 25 Ovviamente la regola principale è che non puoi eliminare nessun bastoncino e che ne devi spostare solo due! Va bene babbo, ci proverò! Io ho capito! Sì? Sì? Ok 5 per 5, 25! Su dammi 50 euro! Wow! Wow!